Era stato sorpreso ad innaffiare piante di marijuana all'interno di una serra. Adesso, per l'amico di Walter, una 42enne a retino ha preso avvio il processo. L'uomo era stato arrestato lo scorso ottobre, poi scarcerato pochi giorni dopo dal giudice a seguito dell'udienza di convalida. I legali del 42enne adesso hanno chiesto la messa in prova, una misura che prevede la sospensione del processo e lo svolgimento da parte dell'imputato di attività di pubblica utilità. Una richiesta però subordinata al fatto che venga riconosciuta la lieve entità del reato commesso. Il giudice, su richiesta di tutte le parti e anche del pubblico ministero, ha disposto una perizia per valutare la possibilità delle piante di produrre ovviamente una sostanza drogante e poi di valutare anche le foglie che erano state praticamente trovate. L'obiettivo è quello di rubricare il reato? Di rubricare il reato nelle ipotesi più leve, ovvero praticamente nel quinto comma, allora in quel caso è possibile la richiesta di messa alla prova. Il 42enne accusato di spaccio ha sempre sostenuto di essersi trovato in quella serra per aiutare l'amico affetto da artrite reumatoide, una patologia che causa atroci sofferenze lenite solamente in parte grazie alla cannabis terapeutica. Ma la quantità che veniva fornita a Walter non era più sufficiente, da qui la decisione di coltivarla illegalmente improprio, rischiando però di finire in carcere. La cosa molto bella è anche il rapporto d'amicizia che lega i due ragazzi e appunto si capisce proprio il gesto fatto dal mio assistito nei confronti appunto del Benedetto che appunto trovandosi in una situazione di difficoltà del genere niente altro ha fatto che appunto dargli una mano, potergli dare una mano.